Ecco qua, era la Kami Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Sono Molly di Rebby e Molly Come va? Tutto bene? Oggi faremo uno scherzo incredibile alla Rebby Utilizzando la nostra super piscina Come ben sapete ormai abbiamo acquistato questa bellissima piscina Guardate, è tutta nuova, c'è fenni, c'è già l'acqua dentro E la Rebby in questo momento è di sotto in garage a fare dei lavorini Come sempre, che cosa facciamo nello scherzo di oggi? Oggi mi sono aggiornato con lei che dobbiamo fare un bagno qua insieme Ci rilassiamo, ci mettiamo qua Insomma, usiamo un po' la nostra piscina Ecco qua, la nostra fantastica piscina E io farò finta di fare la cacca della piscina Però non farò la caccavera ragazzi Utilizzerò la Coca Cola In modo tale Che nell'acqua della piscina Pian piano si veda questa striscia marrone Che schifo Lasciate subito un fantastico like per questo scherzo malvagio di Molly E direi adesso di, cosa possiamo fare? Mascherare la nostra Coca Cola Perché tanto lo scherzo sarà solo questo Perfetto ragazzi Allora, nascondiamo la Coca Cola qua dietro Rimani ferma lì eh E ci mettiamo un po' di Scottex Qua così Ecco, perfetta In modo tale Ecco qua, perfetto In modo tale da nasconderla Adesso fra poco dovrebbe arrivare la Rebi Perché le avevo detto che facevamo questo bagno insieme Ma lei non saprà che ci sarà la sorpresina cacchina Ok ragazzi Adesso devo posizionare bene la telecamera Perché dovrà inquadrare proprio la Coca Cola Allora, vediamo C'è la Coca Cola in piscina Ok, mettiamola così Perfetto Ok Così c'è? Ok Ci siamo? Ok Si dovrebbe vedere abbastanza bene Io dirò alla Rebi che sto registrando un video Sto facendo un vlog qualcosa Mi inventerò qualcosa come sempre ragazzi Adesso vado in piscina E l'aspetto Mi metto in quella posizione di là Così che lei non vedrà la Coca Cola Ci siamo? Siamo pronti? Ah Cavolo Ma perché è sempre così freddo? Tanni vai proprio in là Ok Posizioniamoci Ah È freddo cavolo Ok Ci siamo L'aspetto qua Eccomi Molly Ho rimesso i tuoi calzoni Grazie Stai registrando Stai registrando Facciamo dai Che cellule facciamo oggi? Facciamo Non so chi esce prima Chi rimane Adesso Ok Ho una sorpresa per te Entra e poi vedrai Ok Tanto ciao a tutti Tanto entra Ti lascio spazio Ah Ma perché è sempre così fredda? Ah infatti è freddissima Non so perché Ah è freddissima Facciamo Quanto conosci il tuo ragazzo in piscina? Quanto conosci il tuo ragazzo in piscina? Sì Quanto conosci il tuo ragazzo in piscina? Allora ok Prima domanda Per quanti anni hai nuotato Rebi? Eh due Che due? Tre Tredici 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 E tu non lo sai Ah è vero porca miseria Poi vediamo Allora prossima domanda Quanto è alto Molly? Uno 81 No 79 81 con le scarpe Oh aspetta Non mi suona il telefono Eh aspetta eh Ce la fai? Eh sì Pronto? Ciao Cammy Sei te? Sì 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 Tutto bene No è che stiamo registrando Stiamo registrando un video Perché adesso dobbiamo fare una challenge Va bene se ti chiamo dopo? Eh sì Alle 5 e mezza? Ok Ok va benissimo Sì ma dove che vai? No non ci credo In vacanza Ah ah sì Dopo quando potrai di nuovo andare là Wow che bello Dai Anche io voglio venire con te Scusa Cammy Cos'è? Scusa Cammy Devo andare Ma c'è Molly che fa delle facce strane Adesso vado Ciao Sì ti chiamo dopo Ciao ciao Ecco qua Era la Cammy No è schifo Oh cavolo Oh cavolo Hai fatto la peruta in piscina Oh ma la cacca Nooo Cosa stai dicendo? Ma vai su in serio? Ma che schifo Ma c'è uno non si può distrarre un ottimo per un palacchetta in piscina Ma stai tranquilla Ma che cacca cola Come hai fatto a non sentire? Dai Stavo passando un baccano assurdo E te eri concentrata a parlare con me Ma ero con la Cammy Ragazzi mi giuro Pensavo mi sgamasse perché si sentiva Glug 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 Però lei Ma che schifo ragazzi Ma c'è ma Che schifo Ma voi Molly E' un fustone realmente Quindi io pensavo L'avesse fatta sempre Ma stai sentita Comunque che schifo L'acqua è diventata tutta bella Che schifo Dai Aiuto Ma saranno scherzi da fare la cacca in piscina? Ragazzi per questo scherzo quasi riuscite tutto Ci vediamo al prossimo Ciao Ciao Ma come ti viene in mente di fare la cacca in piscina?